Come funziona il nostro sistema? Per chi non lo sapesse lo facciamo velocemente, per fare la birra ci vuole l'acqua, il malto, il lupolo, il lievito, più altre cose, non so, il fumetto, le spese, quelle cose, ma fondamentalmente sono questi i quattro ingredienti. Qui come funziona? Abbiamo questa tramoggia dove si carica il malto il giorno prima, poi in automatico dall'impianto, con tutto il software che poi vedremo, parte e macina da solo, e manda direttamente all'impianto dove arriva il malto macinato al momento, che è una cosa molto buona, perché comunque il malto va macinato subito, se no i processi degenerativi e ossidativi del malto macinato la sera prima comunque influiscono, ad esempio già sulla liquidezza del prodotto, sulla resa degli azimi, quindi tutte queste cose qua. Tra l'altro il sistema che abbiamo noi, di macina, qua macina, di qua carico il malto, qua macina, fa tutto il circuito che poi, non vedremo da lì, vedrete tutti questi raccolti che fanno giro di là, e abbiamo quello che si chiama idromesh, che ovviamente è un, il malto viene caricato in caldaia, in linea con l'acqua, a una temperatura impostata di ammostamento, quindi non fa polvere e ha una resa immediata degli enzimi perché sono già umidificati. Si fa l'ammostamento qui, dopo di che, dopo l'ammostamento va nel tino filtro, il tino filtro vediamo di, magari aprirlo, se non è un'allarme, perché in impianto automatico c'è problema che, è bello e comodo, però ogni cosa che sbagli ti manda in blocco tutti i processi automatici, quindi, insomma, il tino di ammostamento è un pentolone, se volete andare su a fare un giro, non si vede niente dentro, però adesso lo apriamo, questo è il tino filtro, se vedete, ha un falso fondo, con dei coltelli, e questo è un falso fondo fatto a un sistema taglio a laser, che, per esempio, sono dei questi tagliati qua che vedete, per esempio, non è un afficento, ma non è fatto l'ammostamento, è un solido, un liquido, qua dovete separare il solido dal liquido, per ottenere il liquido, che è quello che è il mosto, quindi qua c'è un doppio fondo, il falso fondo, prende, il solido si ferma sopra, il liquido percola, questo sistema a taglio particolare permette di avere delle rese in filtrazione molto alte, e di essere anche molto veloci durante la filtrazione, se volete salire, magari poco alla volta, magari si sconda la cala, questo è il tipo di ammostamento, il tipo di nuova, quindi, l'ammostamento serve una pala per fare la miscela, l'abbiamo pulito apposta per oggi che almeno... invece quello che c'è centralmente è il canno, si chiama il sistema centrale di bollitura, la tedesca, dove poi si fa bollire il mosto, prende e passa il vapore da sotto, e poi invece dentro ci sono dei cilindri, dove passa vapore saturo, e per il moto convettivo la birra bolle, e però il vantaggio di questo sistema è quello di far bollire il mosto a 97 gradi e non a 100-101, che significa risparmio energetico, risparmio di colore, e risparmio anche di... E arriva con la plancia centrale là, dove si attaccano poi i tubi mobili, che vanno collegati ai serbatoi di maturazione, o di fermentazione, che sono quelli lì. Adesso il layout di rificio è ancora quello originario, a breve verrà implementato con altri tre serbatoi di ingrano. Il sistema per pulire tutti i tubi, tutti i tubi o fermentatori, anche lui è collegato a tutte le utenze, soluzione caustica e soluzione acida, caustica per detergere, l'acida per disinfettare, e siamo per lavorare con i produttori, per lavorare con il scaldatore, per lavorare con le servizie, con le servizie, per lavorare con il risultato di ingrano. Ma noi adesso, noi siamo, inizio, un particolare tipo, da gannarsi un po' a dire,